Sono 35 anni, abbiamo incominciato io e Giambiero perché a vendere il latte solamente non si ci riusciva e allora abbiamo detto di trasformarlo e è cominciata la nostra avventura e tutti i giorni a fare mozzarella, formaggio e ricotta dal 1985. Io mi alzo la mattina alle 4, alle 5 sono qui sul posto di lavoro, dono sguardo in azienda alle mucche e poi comincio a scaldare il latte, già lo trovo qui dalla sera il latte, lo scaldo e lo preparo per la trasformazione. Il signore che ci è venuto a imparare a fare le mozzarella di Latina ci disse voi dovete lavorare poco e buono tutti i giorni e ci è andata bene, col poco ci siamo accontentati e siamo arrivati a questo punto. Il segreto delle nostre mozzarella è il latte fresco e pulito senza pastorizzare, latte crudo che non perdi il sapore dei foraggi, dell'alimentazione dell'animale. Grazie a tutti!